Antonello Savoia era un motociclista provetto e quell'enduro era in grado di controllarlo anche sulle piste da cross durante le competizioni alle quali partecipava. Appare quindi inspiegabile come possa essere caduto da solo su una strada asfaltata schiantandosi contro una roccia. I congiunti del commercialista fasanese di 60 anni, morto domenica mattina sulla statale 172 nei pressi della frazione di Laureto, chiedono chiarezza, sospettando che il motociclista sia scivolato su una chiazza d'olio sversato poco prima da un'auto in transito. Anche la procura vuole escludere qualsiasi dubbio e ha così disposto l'esame autoptico. Al medico legale, cui giovedì viene conferito l'incarico, è chiesto di accertare se la morte sia avvenuta a causa della caduta o se Savoia avesse avuto un malore quando ancora si trovava in sella, perdendo poi il controllo dell'enduro. Gli accertamenti sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia locale di Fasano, il cui rapporto sarà fondamentale per chiarire ulteriormente la dinamica esatta della tragedia.